Durante la pandemia i reati commessi in provincia di Venezia sono calati del 20%, viceversa con l'allentamento delle misure anti-covid si è registrato un aumento del 14%. Complessivamente quindi il calo di reati negli ultimi tre anni è del 6%. Il dato è stato reso noto alla cerimonia per i 208 anni di fondazione del Corpo dei Carabinieri che dopo due anni di stop per coronavirus è tornata a celebrarsi in presenza nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia in campo San Zaccaria. Abbiamo un aumento sensibile della violenza di genere e questo preoccupa perché chiaramente all'interno delle mura domestiche ci sono episodi anche gravi di violenza familiare. E poi dopo c'è comunque lo spaccio di sostanze stupefacenti che è un fenomeno che purtroppo è sempre dilagante, preoccupa e sempre più spesso anche le fasce più giovanili. Il più 20% di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori spicca tristemente nel bilancio di questi tre anni assieme ad un dato contraddittorio, un incremento del 7% delle rapine a fronte di un sensibile decremento dei furti, meno 14,6%. C'è però un altro dato che risalta particolarmente l'aumento del più del 42% delle truffe online dovuto anche al sensibile utilizzo del commercio via internet durante la pandemia. C'è poi il capitolo della lotta alla criminalità organizzata. Richiamo alla memoria l'indagine dell'operazione Papillon di fine novembre, inizi dicembre del 2021 che ha portato all'applicazione di 39 misure che riguarda ovviamente la cosiddetta ricostituzione della mafia del tronchetto e di tutte quelle reati che erano un po' tipici di quel periodo.